Signori bentornati nel canale e benvenuti nel primo video si sul canale effettivamente di Genshin Impact Allora, come sto, come vedete appunto, sto portando, ho Klee, ho trovato Klee Sono passati letteralmente 5 minuti da quando l'ho trovata e la volevo tantissimo, ok, è bassa, non l'ho potenziata tantissimo perché non ho i cosi, ve lo faccio vedere Non l'ho potenziata tantissimo, ancora se devo potenziarla però diciamo l'arma l'80 me l'ero già preparata, siamo agli artefatti che comunque si vanno potenziati dopo mi ci metto di potenzio un attimino Allora, io la volevo tantissimo Klee, erano anni che stavo aspettando una sua rerun e sono contentissimo Adesso devo sperare che quando rifanno la rerun di Albedo la fortuna del 50 e 50 sia dalla mia parte, se no mi tocca, mi tocca Comunque sono molto contento di averla trovata finalmente Klee e l'ho trovata se non mi sbaglio a 79 o 79 o 80, comunque adesso vi faccio vedere la mia reazione di quando ho trovato Klee Non è niente di che, anche perché era veramente inaspettato, non mi aspettavo di trovarla a Pt70, a Pt79 Perché ieri c'era ancora il banner di Eula e avevo preparato 20 Wish, che avevo da parte per Klee più quelle che ci hanno dato oggi E ho detto vabbè, le spendo sul banner di Eula, tanto non la trovo, stavo a Pt60, 50 qualcosa, l'ho spese e ovviamente non ho trovato niente E con le 600 primo gem che ci hanno dato con questo appunto aggiornamento di oggi ho trovato mia figlia, cioè Klee Sono contento, tanto, è bellissima e niente, adesso godetevi la reazione di quando ho trovato Klee Allora, la situazione è la seguente E' uscita Klee E io la voglio La voglio La amo Klee, è mia figlia E' troppo bella E devo vedere un attimo A quanto sto di Pt Ho 75 di Pt So 75 di Pt, quindi ho superato soft Pt Ok, me ne mancano 20, 15 scusate E ho Klee assicurata Io ne faccio una così Non trovo niente E va bene, sono d'accordo Ne azzardo un'altra per ridere Non penso sia qua Ok, non è qua neanche Però si, ho Klee, diciamo, mezza assicurata E sono contento di questo E ok, perfetto Sicuramente non sarà neanche qua E appunto, perfetto Quindi siamo a Pt 70 L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata Mia figlia L'ho trovata Si cazzo Dai che andiamo L'ho trovata Cazzo Avete visto, no? Non era, diciamo, una reazione Chissà quanto esagerata Ho fatto di peggio Ho fatto tanto di peggio Quando ho trovato Tao Anche che ce l'avevo assicurata Ho urlato tantissimo Quando ho trovato Caching Ho urlato altrettanto Quando ho trovato Chiechi Ho bestemmiato Non vi dico quanto Perché volevo Ganyo Ma questi sono dettagli Quindi effettivamente Dicli Sono 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 contento Ecco, sono contento Ditemi se voi provate E proverete a pullare appunto Sul banner di Di Klee Anche perché Diciamo Dio, 4 stelle Non è che non sono malissimo C'abbiamo Barbara Che secondo me Può anche rimanere dove Invece su Crossef E Fiskl Secondo me Sono molto Sono molto Sia versatile Sia buoni Da utilizzare E Anche il banner Delle armi Non è malvagio E Comunque ho provato Un attimino Klee Ho fatto un attimo Un paio di missioni Per quanto riguarda Il nuovo evento E devo dire Che l'evento è bellissimo Quindi Bellissime le isole nuove Molto belle Non vi faccio spoiler Per chi ancora deve fare La 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 missione E Per quanto riguarda Invece Anche appunto Abbiamo la testa Per chi vuole appunto Testare Klee 20 primo Gem una volta Che si è appunto Completata E Però devo dire Sono Sono veramente contento Adesso ci creerò Più o meno Un team Un team sopra Anche se Flexare Diciamo I quattro Leggendari È veramente Bello E Quindi Niente E Questo era un piccolo video Dove vi facevo vedere Che avevo trovato Klee E spero che vi sia piaciuto Se è stato così Scrivetemelo sotto nei commenti E fatemelo sapere Con un bel like Mi raccomando Signori L'iscrizione alla campanellina Fondamentale Se non volete perdere Qualsiasi appunto video Che sia di Apex Di Fortnite Di Genshin Di qualsiasi appunto Gioco che portiamo Sul canale E Niente Ah mi sono anche appunto Aggiornato il banner Prima avevo Ehm Utao Adesso mi sono Mi sono Mi sono messo qui Scrivetemi anche nei commenti Se volete altri video Appunto su Genshin Impact Ve li porto tranquillamente Anche perché su questo gioco Ci sto Dalla mattina alla sera Contate che ieri Col tutto che c'era La season di Fortnite Volevo andare su Genshin E Comunque niente Vi porto anche il video Sulla season di Fortnite Assolutamente L'ho provata L'ho testata Vi dico quello che Penso io appunto Della Della season Se mi piace Se non mi piace Cosa cambierei Cosa avrei messo In più Cosa non avrei messo Ne parliamo appunto In un altro video Detto questo signore Noi ci vediamo domani Ehm Ah è uscito anche L'episodio 9 del calendario D'estate Quindi da te lo vedete Noi ci vediamo domani Sia col decimo episodio Del calendario E penso con il video Appunto Ehm Il video dove appunto Vi parlo Della stagione 7 Di Fortnite Detto questo Vi saluto Ciao Adios Ciao